Le aziende italiane sono bravi a reagire alla situazione in tempo abbastanza breve, vuol dire che siamo riusciti a reagire a quei cambiamenti e a quelle nuove condizioni di rottomazione che c'era qua l'anno scorso, praticamente in una settimana. Grazie, oggi parlare di strategia è una bla bla bla. Stiamo lavorando adattandoci alla realtà di oggi che non conosce nessuno, cosa sarà domani, come sarà domani. Stiamo lavorando al quarter basis, primo quarter, secondo, terzo, stiamo cambiando, stiamo flessibili. Traverso quel periodo difficile che tutti parlavano di Fiat che è sempre perde, sempre in difficoltà, eccetera, eccetera, dopo l'arrivo di Marchione che ha fatto un lavoro enorme, tutti hanno cambiato l'opinione perché hanno visto anche i risultati. Fiat ha imparato a lavorare nel mondo di Matrix. Stiamo facendo tante cose e siamo responsabili di tante cose e prendiamo le decisioni insieme, veloce e reagiamo in modo veloce.